La tradizione è custodire il fuoco, non adorare le ceneri. Con questo appello ecco la chiamata raccolta di tutti gli scout e le guide di ogni età passata e presente in occasione del centenario del gruppo scout di Gardone Valtrompia che in questo 2023 compie 100 anni. Ben ritrovato dice la lettera, probabilmente sono passati diversi anni dall'ultima volta che hai ricevuto una lettera come questa che ti dava le informazioni essenziali per partecipare a qualche campo oppure dall'ultima volta che l'hai scritta tu stesso per invitare qualche lupetta, lupetto, esploratore, guida appunto qualche campo che avevi preparato con la tua staff. Per questa ragione forse ti sorprenderà riceverla ma speriamo la leggerai con un sorriso e magari anche con un po' di nostalgia. Ti scriviamo dicono gli attuali scout gardonesi perché questo anno 2023 per il gruppo scout di Gardone Valtrompia è un anno decisamente speciale. Il gruppo scout infatti nasce nell'ottobre del 1923 dunque compie cento anni. Ci sembra che questa occasione non sia da lasciare sfuggire e vorremmo celebrarla nel modo migliore. È una tappa importante di un lungo cammino che ha radici lontane nel passato e che ancora continua sulle polverose vicende delle strade. A questo cammino per un breve o lungo tempo si è intrecciata anche la tua strada giovane o vecchio scout gardonese. Per questo abbiamo deciso di iscriverti. Infatti vorremmo davvero che questa fosse la festa di tutti coloro che negli anni hanno giocato, camminato e vissuto l'avventura nelle file del nostro gruppo scout ci piacerebbe riuscire a radunare più persone possibili convinti che possa scaturirne un piacevole incontro e magari l'occasione di rivedere compagni di squadriglia o amici che non abbiamo più avuto opportunità di vedere ma che ancora ricordiamo con affetto e simpatia. Se vorrai partecipare, dicono gli attuali scout nella lettera a tutti gli scout gardonesi, il primo appuntamento è per il pomeriggio di sabato 4 marzo prossimo. Il programma prevede il ritrovo in oratorio a Gardone Valtrompi alle 16.30. A seguire ci sarà una cerimonia ufficiale di apertura di questo anno di festeggiamenti con un'alza bandiera. Ci sposteremo poi alla chiesa parrocchiale di San Marco dove alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa. Abbiamo invitato a concelebrare tutti i preti che negli anni sono stati assistenti ecclesiastici del nostro gruppo scout gardonese. Torneremo poi in oratorio dove per chi vuole ci sarà l'occasione di cenare in compagnia con uno spiedo. Attenzione, per partecipare alla cena sarà necessario prenotare entro venerdì 24 febbraio le indicazioni. Successivamente la serata proseguirà a partire dalle 21.15 con un momento di condivisione e rievocazione della storia del nostro gruppo. Non mancheranno racconti e canti che hanno accompagnato le serate e le notti di tutti noi in tanti tempi diversi. Magari nascosto in qualche cassetto, dicono gli scout attuali a tutti gli scout gardonesi, hai ancora il tuo vecchio fazzolatore del gruppo? Se lo trovi indossalo, sarai in buona compagnia. Questo è solo il primo appuntamento. Abbiamo in programma diversi altri momenti nel corso dell'anno ma ci piaceva iniziare con un'occasione di incontro conviviale, di racconti, canti e storie. Speriamo davvero di poterti incontrare il 4 marzo o di una delle attività che si svolgeranno nei mesi successivi. In coda alla lettera e a questo notiziario le informazioni per rimanere aggiornato. Ci siamo permessi di disturbarti, ci va per dire, ma non temere, non riceverai altre comunicazioni da parte nostra a meno che tu non sia a deciderlo. In caso tu voglia rimanere aggiornato, dicono gli scout attuali agli scout gardonesi di ogni età, nei prossimi mesi abbiamo predisposto una mailing list dedicata. Comunicando il tuo indirizzo riceverai tutti gli aggiornamenti, le istruzioni al termine di questo servizio televisivo. Abbiamo cercato di raggiungere più persone possibili ma certamente qualcuno non avrà ricevuto questo invito. Se sei rimasto in contatto con qualcuno che è stato nel gruppo scout e hai modo di avvisarlo ci darai una mano. A presto e buona strada! Grazie a tutti!